Ci sarebbe un indagato nella vicenda della ragazza di 23 anni morta schiacciata dal peso di un cancello che si è sganciato mentre lo chiudeva a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, nell'azienda agricola La Villa, domenica sera, intorno alle 21. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Edoardo Comandè, si sono ovviamente concentrate sulla manutenzione del sistema di chiusura del cancello attraverso rilievi fotografici e planimetrici. La procura di Avezzano, con il PM e la dottoressa Lara Seccaccini, vuole vederci chiaro e probabilmente, grazie al materiale fornito dai carabinieri di Tagliacozzo, disporrà a breve giro una perizia per verificare se sono state le scarse condizioni di manutenzione del cancello in metallo a provocare l'incidente mortale. Intanto, sul corpo della giovane arbutina Mea, è già stata effettuata la ricognizione cadaverica con il medico legale. La salma della ragazza, che viveva con la sua famiglia all'interno dell'azienda agricola stessa, dove il padre lavorava come custode, è stata già riconsegnata alla famiglia per le esequie, che si svolgeranno in Macedonia, paese di origine della famiglia, che viveva in Italia ormai da anni e che nella frazione di Villa San Sebastiano era molto conosciuta. Una morte che, infatti, ha lasciato attoniti i cittadini della piccola frazione di Tagliacozzo.